La complessità degli interventi a cui è chiamato oggi il sistema dei servizi alla persona richiede alle diverse figure che si occupano di minori sempre maggiori capacità di dialogo interprofessionale. Infatti, considerate anche le significative novità introdotte dalla legge 149 del 2001, le diverse professioni devono sempre più collaborare al fine di promuovere innanzitutto la difesa dei diritti dei minori. Obiettivi comuni di lavoro e risultati condivisi sono la base del lavoro di rete, orientato alla cooperazione tra tutti gli operatori nell'ottica della centralità del minore, che deve essere la chiave di lettura dell'agire professionale di ciascuno. La provincia di Torino, nell'ambito delle sue competenze sulla formazione agli operatori del sistema integrato di interventi e servizi, di cui alla legge 328 del 2000, ha organizzato nel 2011 un corso di formazione sulle tematiche minorili denominato «Chi fa che cosa?» rivolto a assistenti sociali, avvocati, psicologi, proprio per consentire a questi operatori di conoscersi, riconoscersi, confrontarsi e riflettere sulle modalità di lavoro, salvaguardando il rispetto delle specifiche competenze e dei diversi ruoli, ma individuando un obiettivo comune da raggiungere, la tutela del minore e delle sue relazioni familiari. Senti chi parla. Assistenti sociali, avvocati e psicologi a confronto. Nell'ambito della tutela del minore, qual è il ruolo che la sua professione svolge? Allora, la mia professione svolge un ruolo fondamentale che però io dividerei in due parti. Sicuramente un ruolo di sostegno e di assistenza e poi un ruolo di vigilanza e controllo. Assistenza e sostegno sicuramente quando siamo di fronte a famiglie in difficoltà che chiedono aiuto, magari anche solo difficoltà economiche legate a un periodo della loro vita o dopo una separazione, donne sole, con figli eccetera. Mentre siamo in una situazione di... dobbiamo giocare un ruolo di controllo e di vigilanza, ovviamente in particolar modo quando siamo di fronte e in presenza di un decreto di un tribunale che sia dei minori o ordinari eccetera. Io però penso che il ruolo fondamentale è l'unione di questi due livelli, perché noi giochiamo un ruolo di promozione delle capacità genitoriali delle persone che abbiamo di fronte. Noi dobbiamo promuovere dei processi di cambiamento negli adulti in modo tale che poi possono essere in grado di affrontare il loro compito genitoriale, che in qualche modo è venuto meno. La mia professione nell'ambito della tutela del minore assume un ruolo quando l'avvocato assume la veste di curatore speciale del minore o di difensore delle parti adulte coinvolte in procedimenti riguardanti i minori. Tutte le volte in cui la legge riconosce un concreto potenziale conflitto di interessi tra i minori e le parti adulte dispone la nomina di un curatore speciale. Si tratta delle procedure riguardanti la limitazione o la decadenza di potestà genitoriale, le procedure di adottabilità che si svolgono avanti al Tribunale per i minorenni e tutte le procedure che hanno in dubbio lo status, lo stato civile del minore. La dichiarazione giudiziaria di paternità, l'impugnazione di riconoscimento non veritiero, il disconoscimento e quant'altro. Viene anche in considerazione il ruolo di tutela del minore quando l'avvocato svolge il ruolo di difensore delle parti adulte del processo in quanto accanto alla tutela degli interessi degli adulti deve tenere presente che la norma impone di considerare prioritariamente l'interesse del minore. Il ruolo dello psicologo è quello di effettuare interventi di prevenzione, diagnosi e cura per tutelare la salute psicofisica del minore. Lo psicologo deve effettuare una valutazione psicodiagnostica del minore e delle sue relazioni familiari con una grande cura e attenzione ai fattori di rischio e di protezione onde poter verificare il danno che può essere derivato sul bambino e progettare interventi a tutela. Questo compito non può essere svolto da solo ma deve essere in stretta integrazione e collaborazione con gli altri professionisti che si occupano della tutela del minore ed in particolare con il servizio sociale. Eventualmente è compito dello psicologo in integrazione con gli altri servizi fare un'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria a tutela del minore. Il primo aspetto fondamentale secondo me è la professionalità. Noi nella tutela del minore siamo di fronte a grandi sofferenze, sofferenze subite da bambini, vittime innocenti e quindi sicuramente se noi non mettiamo in campo la nostra professionalità e la nostra preparazione rischiamo di lasciarci coinvolgere troppo e quindi non essere efficaci, non essere promotori di cambiamento. Un aspetto importante, il secondo aspetto secondo me che non deve contrastare con la professionalità ma è mettere in campo dell'umanità, cioè riconoscere che nelle persone che abbiamo di fronte riconoscere persone nei nostri interlocutori, quindi con le loro sofferenze, la loro storia. Anche qui noi non possiamo promuovere un cambiamento se non conosciamo la storia magari dell'adulto maltrattante o dell'adulto che ha delle difficoltà ad essere genitore. E l'ultimo aspetto importante è la tenacia. Noi dobbiamo essere tenaci nel nostro lavoro perché spesso abbiamo difficoltà di comprensione, di confronto con altre professioni, magari con gli avvocati stessi, magari con i giudici. Abbiamo difficoltà anche con professionalità che incrociamo nel nostro lavoro come insegnanti, presidi che magari non comprendono i nostri interventi alle volte drastici e non capiscono che è un tentativo di sostegno e di tutela del minore e non troviamo la nostra motivazione nell'autostipendio che guadagniamo e quindi dobbiamo essere tenaci fino alla fine. Quando svolgo il ruolo di curatore del minore cerco di dar voce ad un soggetto che è assente, muto nel processo. In particolare cerco di individuare le scelte che maggiormente realizzano il suo interesse. Fondamentale è garantire, per quanto possibile, condizioni sufficientemente buone di crescita del bambino e di soddisfazione dei suoi bisogni di crescita psicologica, emotiva e fisica. Se la sua professione fosse un film sarebbe? Mission Impossible La guerra dei roses come esempio di quello che non si deve fare in caso di separazione Segreti e bugie E se fosse un libro? Il processo, Kafka Vento scomposto di Simonetta Agnello Hornby Se fosse un quadro? Guernica di Picasso L'urlo, Munch Che cosa fa l'avvocato? Difende il cliente L'avvocato rappresenta il minore e la sua famiglia di fronte all'istituzione per tutelare i loro diritti Che cosa fa lo psicologo? Ascolta e accoglie Dal punto di vista processuale integra il sapere giuridico con le sue conoscenze in campo umano Che cosa fa l'assistente sociale? È il primo anello di collegamento tra il cittadino con problemi e le istituzioni L'assistente sociale conosce e progetta interventi che tengano conto dell'ambiente di vita del bambino Delle sue relazioni significative E della rete di risorse disponibili per tutelarne una crescita sufficientemente sana Tutto quello che avrebbe sempre voluto dire di positivo sugli avvocati Sono tutelanti e sicuri Competenti Cooperativi Di parte Tutto quello che avrebbe sempre voluto dire di positivo sugli assistenti sociali Motivati E solidi Che sono accoglienti Comprensivi Progettuali E direttivi E sugli psicologi? Le stesse considerazioni eccetto per quanto riguarda l'essere direttivo Sono accoglienti e di sostegno Tutto quello che avrebbe sempre voluto dire di negativo sugli avvocati Sono cinici, a volte ingenui Incompetenti Prevenuti Di parte Tutto quello che avrebbe sempre voluto dire di negativo sugli assistenti sociali Che processualmente non sono controllabili e le loro valutazioni a volte sfuggono Affaticati Deleganti Deleganti O interventisti E sugli psicologi? Sono molto sicuri e statici Escono poco dal loro studio Che sono assertivi E a volte che il loro lavoro è processualmente superficiale Chi porterebbe ad una cena romantica? Non so se sarebbe romantica Uno psicologo da subissare di parole Sicuramente un avvocato maschio C'è più scelta E mi offrirebbe la cena Una psicologa sicuramente Se suo figlio le dicesse Da grande voglio fare l'avvocato Cosa risponderebbe? Sicuramente Cuore di mamma Vorrebbe suggerire la prudenza E quindi gli direi di pensarci proprio bene Se suo figlio le dicesse Da grande voglio fare lo psicologo Cosa risponderebbe? Ma sei sicuro? Pensaci bene Se suo figlio le dicesse Da grande voglio fare l'assistente sociale No, no Meglio l'avvocato Meglio l'avvocato Sulla torre c'è solo posto per due Chi butterebbe giù? Non c'è problema L'assistente sociale si butta giù da solo Perché è sempre un po' inadeguato E poi noi siamo quelli che si sacrificano per gli altri Butterei giù tutti quelli che fanno il loro lavoro Senza metterci l'anima Tutti tre per mano insieme Il dialogo continua